Risotto con zucca e noci Il risotto con zucca e noci è un primo piatto saporito e veloce da preparare, adatto soprattutto ai mesi più freddi come gennaio, quando la zucca è al suo meglio. Un piatto gustoso e allo stesso tempo sano, ideale per l'inverno, un mix di sapori delicati, accompagnato da una nota croccante data dalle noci. Per preparare questo piatto serve, 200 g di riso, 200 g di zucca, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, un mezzo cipolla tritata, 100 g di noci, un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Ecco i passaggi da seguire per preparare il risotto con zucca e noci, in una casseruola, fate soffriggere la cipolla tritata in olio extravergine di oliva, e aggiungete la zucca tagliata a dadini. Cuocete per 10 minuti a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto. A questo punto, aggiungete il riso, mescolate e lasciate cuocere per 5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungete un mestolo di brodo caldo, mescolate e lasciate cuocere per altri 15 minuti. A fine cottura, aggiungete le noci tritate grossolanamente e il parmigiano grattugiato, mescolate, lasciate riposare per qualche minuto e servite.